Siamo con Michele Vittozzi, attaccante, centrocampista, un po' tutto fare della battipagliese, oggi un 5-0 netto contro il Social Friends Battipaglia con un tuo fantastico gol. Vabbè, voglio premiare la prova di tutta la squadra perché nonostante tutto il campo è difficile, comunque abbiamo giocato un ottimo calcio e cerchiamo di ringorrere questo campionato perché è il nostro unico obiettivo. Domenica a Caggiano, poi la sosta. La sosta può essere un fatto negativo o positivo prima di preparare il derby dell'8 gennaio contro l'Atletico Battipaglia? Io penso che le partite come il derby, qualsiasi derby si preparano da sole, quindi o prima o dopo la sosta vogliamo fare un buon Natale, quindi andiamo domenica a Caggiano come abbiamo fatto fino adesso a vincere tutte le partite. Grazie Michele Vittorio. Grazie a voi, forza battipagliese.